È stato arrestato in Spagna dalla polizia spagnola il 38enne italiano evaso dagli arresti domiciliari nel Bresciano dopo che lo scorso 14 giugno aveva causato il crollo del proprio appartamento fabbricando un congegno esplosivo. L'uomo che era finito in ospedale per le ferite riportate nell'esplosione era stato poi arrestato e posto ai domiciliari, ma era evaso il 29 luglio. Nei suoi confronti era stato quindi emesso un mandato di cattura europeo e sulle sue tracce nel frattempo si è mosso il servizio per il contrasto dell'estremismo e del terrorismo interno insieme con la Digos di Brescia, all'interno di un'indagine coordinata dalla procura di Brescia che si è svolta anche con intercettazioni, al termine della quale il latitante è stato rintracciato in Spagna dove è stato arrestato in collaborazione con l'Interpol e la polizia spagnola. Si trovava nella cittadina andalusa di Fuengirola, distretto di Marbella, dove si nascondeva in un appartamento affittato nei primi giorni di agosto al momento dell'arresto ha tentato di fuggire e a posto resistenza ne è nata una sparatoria, per fortuna senza feriti. Tra le ultime operazioni della questura di Brescia anche la chiusura per 15 giorni della discoteca Paradiso un provvedimento adottato dopo l'escalation di episodi violenti che sarebbero accaduti recentemente nel contesto della discoteca che hanno visto protagonisti anche pregiudicati e ubriachi e che hanno richiesto l'intervento degli agenti. La notte dello scorso 15 agosto la volante è intervenuta insieme con il 118 per una violenta aggressione ai danni di un avventore che a seguito di un diverbio è stato colpito da un pugno al volto riportando la frattura della mandibola. L'8 agosto i poliziotti della squadra volante erano intervenuti all'esterno del locale per una rissa. L'episodio aveva avuto origine all'interno della discoteca in seguito di una discussione nata per futili motivi tra due gruppi di ragazzi. Un episodio molto simile era avvenuto anche lo scorso 4 luglio allora erano rimasti feriti due ragazzi per i quali si era reso necessario l'intervento del 118 mentre il 16 febbraio era stato richiesto l'intervento delle forze dell'ordine per una violenta aggressione avvenuta all'interno del locale tra alcuni avventori in cui è stato fatto uso anche di una bottiglia rotta. La discoteca inoltre l'11 luglio era già stata sanzionata per violazione delle norme anti-covid poiché molti ragazzi erano stati sorpresi all'interno intenti a ballare senza mascherina e distanziamento. Per tutte queste ragioni il questore di Brescia ha disposto la chiusura del locale per cui dieci giorni.